Carissime concittadine e carissimi concittadini, quest'anno non potremo celebrare la festa della liberazione così come eravamo abituati, ma ancora più sento la responsabilità di ricordare insieme a voi il significato di questo giorno. Il 25 aprile 1945, grazie al sacrificio di tanti uomini e donne appartenenti a schieramenti politici diversi, furono liberate Milano e Torino. Fu l'inizio dell'insurrezione che portò alla liberazione dell'Italia dalla dittatura e la riconquista della libertà. Oggi ricordare questa data vuol dire anzitutto dare la possibilità a chi non c'era di conoscere la nostra storia e chi più dei nostri anziani ne fu testimone. È a loro che sto pensando in questo momento con immensa tristezza, ai tanti anziani che ci hanno lasciato in questi ultimi due mesi, vittime silenziose e indifese di un nemico invisibile che si sta portando via alla nostra memoria storica, i nostri narratori, vittime della guerra e della pandemia. Ma li ricorderemo come eroi della ricostruzione dell'Italia, una nazione provata e segnata da un profondo dolore, dove tutti si rimboccarono le maniche e ognuno fece la sua parte per donarci il privilegio di vivere in un paese libero e democratico. Come sappiamo la ricostruzione non fu cosa facile. Non riguardava soltanto le immense distruzioni causate dalla guerra, la situazione tragica di un popolo ridotto alla fame con milioni di disoccupati. Bisognava infatti essere costruttori e garanti della nuova democrazia, in un ritrovato amor di patria per difendere il dono della liberazione. È su questo piano, credo, che oggi più che mai occorra portare una riflessione storico-culturale a proposito di questa celebrazione. La storia infatti ci insegna che quando una società si struttura su un libero e civile confronto tra le parti sociali ed economiche, si trovano soluzioni condivise ai problemi individuali e collettivi. Questo è uno degli insegnamenti del 25 aprile ed è quello che in questo nostro piccolo paese cerchiamo ogni giorno di mettere in pratica. I nostri servizi, l'assistenza sociale ed amministrativa, la solidarietà e il volontariato non sono mere parole, ma una concreta dimostrazione di una comunità che è attiva e presente, nonostante i tanti disagi generati da questa pandemia che sembra aver trasformato e offuscato ogni cosa, ma non il ricordo di un giorno di pace. Buona festa della liberazione.